Salve ragazzi, come avrete avuto modo di notare, il social network Google Plus ha cambiato leggermente la grafica dell'immagine del profilo e l'immagine di copertina. Adesso infatti l'immagine di profilo è ora rotonda e l'immagine della copertina invece è possibile impostarne una molto più alta, un vero e proprio sfondo, come potete notare anche eccessivamente grande. Ma fortunatamente esiste un modo per poter impostare come immagine di copertina un'immagine in una proporzione diversa da 16 noni e quindi impostarne una di altezza più bassa. Per prima cosa quindi creiamo un'immagine in proporzione 16 noni, ad esempio 1080x720, però fatto in modo ad esempio come questa che vi sia un spazio vuoto da ritagliare successivamente. quindi andiamo su Google Plus, mettiamo cambia copertina, carichiamo la nostra immagine e quindi mettiamo, ovviamente selezioniamo l'intera immagine e clicchiamo su salva. A questo punto clicchiamo in un punto qualsiasi dell'immagine di copertina per accedere alla pagina in cui ad esempio possiamo anche commentare e clicchiamo in alto su modifica foto. Vi si aprirà quindi l'editor di Google Plus e dal menu ritaglia impostiamo la dimensione che preferiamo, nel nostro caso la parte dell'immagine sul test è alta 500, quindi metto 1080x500, spostiamo il riquadro, applica e infine salviamo. Quindi clicchiamo su sostituisci ed ecco fatto. L'immagine vedete è stata aggiornata e adesso per aggiornare anche sul profilo vi basta aggiornare la pagina. Come potete vedere siamo quindi riusciti a ridimensionare l'altezza della nostra immagine di copertina. E con questa nostra video guida è terminata, se l'avete apprezzata mettete un bel mi piace sotto al video e iscrivetevi al nostro canale YouTube e continuate a seguirci sul sito www.witr-tec.eu Alla prossima!